Nicoli, importanti provvedimenti per quello che riguarda la viabilità del traffico pesante dove Monfalcone purtroppo ne risente parecchio a volte. Sì, è vero. In questo senso l'amministrazione comunale si è già mossa per tempo. Abbiamo fatto una riunione in Prefettura Trieste la scorsa settimana, esattamente il 23 maggio, assieme a vari soggetti con i quali abbiamo identificato le misure da adottare circa il traffico pesante dei camion che potrebbero riversarsi in città nel caso che i confini con la Slovenia venissero in qualche maniera chiusi o comunque bloccati per vari motivi o per situazioni emergenziali in generale. Abbiamo individuato nella zona del porto, cioè via Timavo, in fondo la via Timavo un'area dove far arrivare i camion che magari possono rimanere così in autostrada e quindi dare uno sfogo in questo senso alla viabilità del traffico pesante. Diciamo che in città stiamo facendo dei importanti lavori per quanto riguarda l'esecuzione della rotonda su via Romana e intersezione con via Colombo, che è la viabilità principale verso Trieste, in direzione Trieste. Abbiamo individuato nella via Terza Armata, che è una via parallela, una viabilità alternativa al traffico nel caso che i lavori ovviamente che possono portare dei disagi perché qualsiasi cantiere stradale qualche disagio lo porta, abbiamo individuato in quell'arteria uno sfogo, una valvola alternativa alla viabilità principale che insomma di solito per Trieste vede la via Colombo, principale arteria. Io non so se lei ci oppure o meno e si è stato affrontato, però affrontare in prefettura un discorso di mezzi pesanti sulla possibilità di modifiche ai confini, possiamo aspettarci la possibilità anche magari in vista dei nuovi flussi migratori o altro di un ritorno dei confini, cioè c'è questa possibilità? No, non ho questa sensazione, credo che sia stata verificata una misura alternativa, una misura di salvaguardia per il traffico pesante che può riversarsi sull'autostrada in direzione di Trieste, della Slovenia, ovviamente della Croazia. Ecco, quindi diciamo che Mo Falcone in caso di emergenza ha dato una risposta affermativa alle prefetture che individuavano anche nell'area del porto di Mo Falcone come la planimetria in qualche maniera lo dimostra, un'area appunto dove far parcheggiare i camion che invece potrebbero fermarsi in autostrada, ecco tutto qua. Senti, siamo a sette mesi grossomodo dall'insediamento e quindi la domanda è d'obbligo visto che in campagna letterale, insomma a tanti avete fatto una testa così sul problema della corsia preferenziale dell'area di Piazza della Repubblica, c'è qualche novità? Sì, abbiamo praticamente affrontato tutta la progettazione, il percorso è stato lungo, non è stato assolutamente banale. Abbiamo aggredito sin da subito la possibilità di rimuovere la corsia preferenziale del bus da via Fratelli Rosselli che portava un aggravio di traffico anche sulla via Nove Giugno che è una strada anche principale di accesso al centro urbano. Abbiamo fatto appunto questo provvedimento, da poco abbiamo prodotto una progettazione che vede alcune misure appunto per liberalizzare diciamo così la via Fratelli Rosselli dal TPL. Quando vediamo le lighe gialle a questo punto cancellate? Allora guardi, intanto ci sono da fare alcune opere importanti come un adeguamento per esempio dell'incrocio su via Foscolo con via Valentinis, lì dobbiamo proprio rettificare l'incrocio e l'intersezione, approfitteremo di quei lavori lì per fare dei nuovi marciapiedi che oggi mancano e che la popolazione ci ha chiesto specificatamente in quel luogo lì, parliamo di quel incrocio di fronte al commissariato di pubblica sicurezza, tanto per capirci, dobbiamo potenziare la fermata dell'autobus in via Bixio, dobbiamo crearne una nuova in via Carducci, dobbiamo anche fare una preferenziazione semaforica per agevolare il traffico dell'autobus extraurbano che ha bisogno di tempi di percorrenza certi. Allora Nicoli non è che, ma da buon tecnico non è che non vuole guardare in camera perché ha paura, ma mostriamo, aveva in realtà qui tutte le piantine, le cose, non voglia sbagliare perché i tecnici parlano sempre solo con le carte, quindi insomma non è che aveva paura di, tra l'altra cosa va alle mani davanti, non dietro, quindi vuol dire che, ecco perché sai quando le mani in tasca dietro vuol dire che hai qualcosa da sconto, no invece era sempre davanti. Diciamo che le carte sono importanti, soprattutto in questioni tecniche perché la progettazione è fondamentale, non nascondo che questo provvedimento prevederà l'esborso di risorse, solo l'adeguamento di questo incrocio, parliamo di circa 25 mila euro, più tutta la segnaletica orizzontale e verticale in via Fratelli Rosselli, quindi c'è anche una bella spesa e ovviamente noi abbiamo dovuto fare tutta una serie di computimetrici estimativi per arrivare poi al conseguimento dello sgravio, diciamo, da via Fratelli Rosselli del traffico urbano ed extraurbano del trasporto pubblico locale. In questo senso mi preme sottolineare anche e ringrazio l'APT di Gorizia che in questo percorso è stata veramente collaborativa, ci ha dato una mano e soprattutto anche gli uffici della regione che oggi hanno in mano il trasporto pubblico locale. Devo dire che da parte degli uffici della regione c'è stata una grande collaborazione, un grande aiuto.